La scelta del parco archeologico di San Leucio non è stata casuale, è quello infatti uno dei luoghi per eccellenza dell'evangelizzazione per la Chiesa Cattolica, che nella settimana santa generalmente vive un momento importante per segni e significati. Qui ci sono le testimonianze di un grande tempio, che certamente risale all'opera della figura grande, grandissima di San Sabino. Che si è andata a impiantare su templi pagani, preesistenti ancora. Dunque questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la fede cristiana è molto radicata nella storia di Canosa e delle nostre zone in genere. Ed essendo molto radicata viene da lontano, porta con sé verità antiche, verità sacre, verità importante per noi uomini. Allora, riprodurre queste tradizioni, questi riti, per noi non è soltanto un autocompiacimento, che ci porterà poi a dire dopo alla fine quanto è stato bello, ma sarà un invito a tornare alle radici, che non sono soltanto culturali, ma sono innanzitutto spirituali. Ed è per questo che la location scelta quest'anno per la presentazione delle attività connesse alla Settimana Santa 2019 di Canosa di Puglia è stata proprio il Parco di San Leucio. Un'attività che unisce tradizione, ma anche significati come detto e come ha spiegato durante la presentazione delle attività Don Carmine Catalano, il parroco della Chiesa della Beata Vergine del Carmelo e di quella dei Santi Biagio e Francesco. Una settimana che vedrà impegnata l'intera comunità canosina, con la collaborazione di diversi enti ed associazioni, per un ricco programma di iniziative religiose, ma anche turistiche e culturali. Almeno tre, in momenti che rendono ancora più prestigioso l'appuntamento con le iniziative, in partenza già il 12 e per concludersi domenica 28 aprile. La Dolorata che è venerdì prossimo, con la Dolorata inizia, ci introduce nella Settimana Santa. Poi c'è la Desolata che parte dalla parrocchia di San Francesco e Biagio e che ha il coro dei devoti, delle devoti rivestite di nero, che è molto suggestiva. E poi andiamo oltre la passione e celebriamo la resurrezione con la Madonna della Fonte e la seconda domenica di Pasqua, di Pasqua, non dopo Pasqua.